sull'intera nostra penisola è presente un campo di alta pressione di natura subtropicale con asse disposto dal mediterraneo fin quasi alla scandinavia alta pressione che nei prossimi giorni andrà ulteriormente rafforzandosi garantendo così un periodo di tempo più o meno lungo caratterizzato da diffuse condizioni di stabilità ma nel periodo invernale l'alta pressione non determina un ampio soleggiamento ovunque ma anche un accumulo di umidità nei bassi strati specie nelle ore notturne durante la notte dunque al primo mattino avremo la formazione di dense foschie e banchi di nebbia su tutte le pianure e vallate interne della nostra regione ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend sabato 20 febbraio condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata notte tempo e al primo mattino dense foschie e banchi di nebbia interesseranno le vallate pianure interne temperature in aumento nei valori massimi stazionari alle minime della notte venti deboli di direzione variabile e mare calmo domenica 21 febbraio condizioni di stabilità con cielo sereno ovunque specie sui colli e sui monti foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le pianure con particolare riferimento al vallo di diano temperature senza variazioni di rilievo con valori massimi compresi tra i 16 18 gradi centigradi venti deboli tra est sud est e mare quasi calmo nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà a rinforzarsi ulteriormente raggiungendo valori anomali per questo periodo proprio sulla nostra penisola pertanto ci attendiamo un ulteriore aumento delle temperature segnatamente tra martedì 23 e giovedì 25 febbraio si potrebbero raggiungere così valori tipici del mese di aprile tuttavia l'escursione termica giornaliera sarà molto accentuata specie nelle aree interne dove durante le ore notturne avremo la formazione di dense ed estese foschie e banchi di nebbia una situazione che potrebbe durare fino alla fine del mese ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it bene termino qui un buon fine settimana da giuseppe stabile